Pontus Holmquist è un attaccante classe 99 svedese, nato e cresciuto nel Nordshipping, uno dei mai migliori del campionato svedese. Poi è stato acquistato dai russi del Rostov che lo hanno tenuto per un paio di stagioni e fatto girare, poi in pressione per farlo maturare, a Lutrecht in Olanda e poi al Pogon in Polonia. È stato acquistato dal Lecce di Pantaleo Corbini. È un attaccante molto furbo e molto veloce. Sa giocare partendo da destra e partendo da sinistra, ma soprattutto nell'ultimo periodo al Pogon ha fatto il riferimento centrale con il numero 9. A Lecce ha iniziato nelle prime partite partendo da destra, ma si tratta di un attaccante, come detto, molto veloce in contraattacco, nei ribaltamenti in campo aperto, a grande accelerazione e una buona facilità di dribbling dato proprio dalla sua velocità. Qualcosa può migliorare quando deve girarsi, spalla alla porta sotto pressione, però ecco, è bravo anche a controllare i rimbalzi del pallone con maggiore furbizia rispetto agli avversari e a prendere tantissimi falli nei duelli. Il giocatore che ha anche un ottimo istinto quando va a saltare in area di rigore di testa, è un mancino che gioca bene anche con il destro. Certo, lì può migliorare qualcosa, lo può ancora migliorare, può ancora crescere. Si tratta di un buon acquisto per il livello del Lecce. Per altri consigli seguitemi su Instagram.